Il Signore sia con voi e con il tuo spirito, dal Vangelo secondo Marco. Glorie a te, oh Signore. In quel tempo Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga e molti ascoltando rimanevano stupiti e dicevano da dove vi vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? I prodigi come quelli compiuti dalle sue mani uno è costruito il panegnale, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone e le sue sorelle non stanno qui da noi. ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. E lì non poteva compiere nessun provvigio ma solo impose le mani a pochi malati e ne guariva. E si meravigliava della loro incredibilità. Gesù percorreva i bisbillaggi vintorni. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.